Ti lascio subito il piccolo, io andate subito con la visitazione del tuo gruppo, la prima volta finirò, quindi ti lascio il piccolo con la tua visitazione. Grazie a tutti, ciao, sei bella, buonasera, grazie, grazie a tutti, sono felicissima, io sono sempre molto comitenta, e di questi appuntamenti firmo a moto perché così possiamo salutarci, stringerci le mani, guardarci negli occhi, ed è la cosa che mi rende più felice, sapere anche chi sono le persone che mi invitano a fare un percorso bellissimo. Vi vedo tanti numerosi, sono felice di essere a Roma, tornerò appunto il 10 di maggio per una data molto importante che sarà anche la data di presentazione di questo album nel firmo oggi e inizio, e sarà appunto la vita di un pacco della musica. Grazie di cuore, adesso ci vedremo, avremo il nostro contatto.